Mercoledì inizierà ufficialmente Digital Meet 2018, il festival di Padova diffuso sul mondo del digitale più grande d'Italia. Quali le tematiche affrontate quest'anno? Gianni Potti, presidente del Comitato Nazionale Coordinamento Territoriale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e presidente di Fondazione Comunica Co-Founder di Talent Garden Padova. Quest'anno vogliamo raccontare un digitale diverso, quasi un rinascimento nel quale la tecnologia è un mezzo, non il fine. E' quello che noi chiamiamo l'umanesimo digitale, lo faremo con storie di persone che vivono e usano il digitale tutti i giorni occupandosi della nostra salute, della cultura, dello sport, dei servizi sociali. In una parola vogliamo scendere nel quotidiano di ciascuno di noi perché ormai il digitale è pervasivo nelle nostre vite e vogliamo raccontare un digitale positivo e non solo quello negativo.